Sono Giovanni Bergami, ho 27 anni e vengo da Pesaro Urbino. Il mio progetto si chiama Gestalt, parte dal principio che il tutto è più dell'insieme delle singole parti. Nasce da un singolo modulo, semplice, lineare, pulito, che ripetuto all'infinito e con infiniti pezzi può avere infinite soluzioni. Durante questo workshop abbiamo trovato dei problemi sul mio modulo, in quanto lo spessore dato all'inizio era troppo piccolo. Aumentando lo spessore siamo andati un po' a sopperire questa mancanza iniziale. Ho trovato il sistema della valutazione del progetto molto interessante perché si andava a valutare ogni singolo aspetto del prodotto, dalla funzionalità alla versatilità all'estetica. Il fatto che qui i giurati rendessero pubblici questi voti riuscivi anche a capire il loro modo di pensare, il loro modo di vedere le cose e soprattutto te in che modo riuscivi a comunicare il tuo progetto. Le votazioni normalmente non sono mai rese pubbliche, non si sa il sistema di voto. Questo sistema qua è molto interessante dal punto di vista del progettista perché rendersi conto delle valutazioni, soprattutto delle criticità, rende il progetto ancora molto più interessante.